Io finché avrò vita io starò con te, però la cosa che devi superare è questa paura e devi rischiare e se non rischi non c'è evoluzione e se non c'è evoluzione non c'è vita, quindi io ti chiedo di rischiare con me, perché rischio anch'io, rischiamo insieme, è un'avventura, sarà un'avventura, una nuova avventura. Secondo me Pietro in questo momento ti sta proponendo di ricostruire piano piano, lo capirete solamente fuori di qua magari insieme, per poi provare ad affrontare questa nuova avventura come la chiama Pietro. Intanto uscire insieme da questo programma, spero. Sì, certo. Ti amo Antonella, ti amo davvero. Ti posso dar un bacio? Sulla guancia. Sulla guancia. Ciao. Grazie.